Allora siamo qua, questo è l'ingresso, quindi è un negozio, lo spazio sono circa 50 metri quadri, lì c'è la caldaia, c'è già il terremotifone, c'è tutta la cantina sotto a volte che è molto carina ma non è utilizzata e quindi l'idea in questo bagno è probabilmente doccia in fondo, trovare la modalità di mettere la terapide qua, allungare questa tramezza includendo questa finestra per fare l'antibagno e creare l'attacco della televisione per creare qua una zona soggiorno, la cucina praticamente viene di schiena a questa parete che poi si sviluppa e quella è una zona per mangiare. A quel punto è molto alto, dal video non si vede perché viene buio, però si potrebbe sfruttare questa parte qua di altezza per fare un soppalco e probabilmente sfruttare anche questa parte qua di altezza. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in Diascalia. Ciao!